Quotidianamente nelle nostre attività vogliamo fare la differenza, ma come e soprattutto dove fa la differenza? Il nostro dove ovviamente è il settore edilizia e oggi capiremo insieme come fare questa differenza. Mi chiamo Davide Bandera e oggi desidero presentarvi Mappe antiche NHL Eco Restaura. Oggi la sostenibilità e in generale le tematiche ambientali rappresentano un obiettivo primario in indirizzo, settore che sta avvenendo una fase di cambiamento. C'è una maggiore attenzione ai temi quali ecocompatibilità e sostenibilità nelle costruzioni. Questo si traduce in una scelta più attenta delle metodologie costruttive, delle tecnologie e dei materiali. Materiali prodotti con un alto contenuto di riciclato in impianti efficienti che sfruttano energie rinnovabili. Ecco il percorso che Mappe sta compiendo nel campo della sostenibilità. Grazie all'attività di ricerca e sviluppo Mappe traccia la strada per una sostenibilità concreta abbinando lo studio di materiali del passato con tecnologie innovative. L'obiettivo? Fornire materiali di alta qualità, durevoli nel tempo e meno impattanti in cantiere, poiché vengono studiate soluzioni che garantiscono una più facile gestione dei rifiuti e una diminuzione dei tempi e delle energie necessarie per la realizzazione dei sistemi di prodotto. Facciamo un esempio concreto di scelta sostenibile. Come risanare una facciata dagli intonaci ammalorati? Scegliendo i prodotti della nuova gamma Mappe Antic NHL Eco. In particolare Eco Restaura è una malta multiuso a base di pura calce idraulica naturale e materiali riciclato completamente esente da cemento. È particolarmente indicata per la ricostruzione e il livellamento di supporti intonaci e rivestimenti minerali di tutti gli edifici, anche quelli di pregio. Può essere applicata in spessori da 3 a 30 mm in un'unica mano. È un prodotto sostenibile perché utilizza meno materie prime e vergini e allo stesso tempo permette di realizzare interventi che durano a lungo nel tempo, preservando l'edificio. Mappe Antic NHL Eco Restaura è la risposta a tante domande di cantiere. Come intervenire e quali sono i prodotti da utilizzare nel rifacimento totale o parziale degli intonaci? Quali sono gli spessori da repristinare? C'è una vecchia pittura? È un edificio vincolato? Mappe Antic NHL Eco Restaura offre sempre la risposta giusta e sostenibile. Progettare un mondo sostenibile è un impegno fondamentale di Permapei. Un impegno che si traduce anche mettendo a disposizione di progettisti, imprese, applicatori e committenti prodotti e soluzioni innovative, durevoli e a basso impatto ambientale. Mappe Antic NHL Eco Restaura dalla tradizione all'innovazione.